Si torna negli anni precedenti, si sta facendo e si farà, in questo ne sono condita, anche per quanto riguarda le cose dell'ordine, stanno lavorando bene, stanno lavorando e ci accompagnano anche su questo percorso. Una cosa che è emersa in queste ambizioni è che la politica si è, diciamo, da chiedere voti a queste persone, a queste famiglie, ed è questo un fatto che bisogna, per regolare, bisogna, il politico che va a chiedere tutti.